I mestieri di Riccardo Il portiere Corredi prova a fare il miracolo e a parare questo rigore decisivo Il team Corredi può alzare la coppa al cielo Che parata strepitosa Facilissimo, sapevo di atterrare su un materasso Riccardo Corredi E poi che a lungo eh, ce l'ho di 16, 18, di 20 e... Riccardo I miei materassi sono di tutte le misure E poi bisogna festeggiare A grande richiesta è tornato il materasso matrimoniale in memory a solo 199 euro. È proprio vero, Riccardo farà anche l'aumento dei prezzi. Riccardo Corredi, di me ti puoi fidare.